Un premio per esortare i giovani e per seguire il sentiero della passione dello studio e per non disperdere il talento e diventare così buoni cittadini attivi. E questo è il fine ultimo che si è proposto il premio giornalistico Franco Amendolagine nella sua seconda edizione, che si è tenuto il 27 maggio presso il Teatro Traetta, alla presenza di una giuria di giornalisti che hanno scritto tempo fa sul periodico da Bitonto e di personaggi del calibro di Valentino Lusito, ex presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia e attuale consigliere dell'Ordine dei giornalisti e Piero Ricci, attuale presidente dell'Ordine dei giornalisti pugliesi. È un giornale nato sulla carta ed è la carta la materia che usano meno i giovani per informarsi e invece è necessario ritornare un po' sulla carta perché sfogliare un giornale significa approfondire quello che ci scorre davanti al web sul nostro smartphone e quindi è importante non sapere solo quello che accade ma sapere perché accade e i giornali hanno il tempo per sviluppare anche le spiegazioni che servono per essere diciamo cittadini consapevoli e quindi decidere poi chi deve governarci davvero. Il concorso è stato rivolto a studenti delle scuole medie superiori di quarta e quinta classe ed è stato anche lo spunto per ricordare il fine pedagogico dell'opera di Franco Mendolaggine che ha sempre puntualmente informato la città di Bitonto di quel che succedeva, educando appunto la popolazione ad essere sempre a conoscenza dei fatti. Franco è stato un maestro di tanti, oggi per esempio sul palco avevamo ospiti l'ex presidente dell'Ordine dei giornalisti, l'attuale presidente dell'Ordine pugliese, giornalistico pugliese, tutti hanno scritto un articolo sul giornale da Bitonto che appunto ha 36 anni di vita ed è probabilmente dopo lo stradone il giornale più antico della terra di Bari e quindi la famiglia anche su impulso della collega Mariella Vitucci due anni fa ebbe l'idea di dar vita appunto a questo concorso che dovesse far sì che anche nei ragazzi, nei giovani che frequentano le scuole si potesse continuare a coltivare il talento, la passione e lo studio per quello che viene definito da un collega più importante di noi a Prea, un vero e proprio mestieraccio che probabilmente all'apparenza sembra non avere tempi e regole ma che in realtà è fatta di una deontologia, come ci ha spiegato questa sera Piero Ricci, l'amico Piero Ricci, di una deontologia ferrea, salda e solida che deve resistere anche agli attacchi del tempo. Ospiti della serata anche il giovane pianista Costantino Carrara. Le tre piazze d'onore sono andate ad Angelica Misciagna del liceo classico linguistico Silos, Luca Muschitiello del liceo scientifico Galilei e vincitrice del concorso, fortemente voluto dalla famiglia e in particolar modo dalle figlie Concita e Vittoria Mendolagine, Valentina Barone del liceo Silos. Lo scopo era quello di sostenere i giovani nella loro attività comunque di ricerca, nella loro attività di stimolo continuo ad apprendere, a sperimentare forme nuove anche di comunicazione, soprattutto a mantenere viva quella curiositas di veramente conoscere la realtà mantenendo uno spirito critico come dicevo stasera. Sicuramente è importante leggere, ma abbiamo avuto anche modo di vedere che tanti ragazzi poi hanno un talento loro, un talento proprio e quindi è anche giusto che venga fuori questo talento. La lettura sicuramente è fondamentale, è uno dei tanti mezzi per conoscere sicuramente. Grazie a tutti.